La delega del Presidente Sospiri a rappresentare il Consiglio regionale per me è stato motivo di orgoglio. Alla presenza del Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra e di Davide Marini, il figlio del Presidente Franco Marini, è stato veramente un momento di coinvolgimento generale, molto partecipato, tutta la struttura della CISL regionale molto attiva e devo dire che ci sono stati dei puntuali ricordi molto importanti e interessanti. Io nel mio indirizzo di saluto ho voluto evidenziare la vicinanza personale più che quella politica, la storia politica di Franco Marini è scritta addirittura anche attraverso pubblicazioni che hanno rappresentato il percorso della sua grande esperienza politica e da sindacalista e io ho fatto qualche accenno alla nostra vicinanza, le nostre frequentazioni. Marini era una persona molto allegra che partecipava a iniziative anche di socializzazione ed era molto attivo nei dialoghi e tra l'altro ricordato l'esperienza anche negativa che segna pure la qualità dell'uomo, dello statista, quella che non ha visto la nostra regione, il nostro territorio a sorgere tramite lui alla carica di Presidente della Repubblica. È stata comunque una giornata bella, è una giornata di ricordo e il ricordo è il più grande strumento di resistenza e per questo noi andiamo avanti nella memoria di Marini e nella volontà di trasmettere soprattutto ai giovani gli insegnamenti di qualità della politica e del buon governo.